Viva Palermo! Signor Palermo! Signor Palermo, signor! Abbiamo partecipato a questa manifestazione con la nostra classe. Siamo qui per ricordare appunto la morte di Falcone, che è stato un grande esponente della legalità. Per noi legalità è innanzitutto non essere omertosi, continuare la propria vita diciamo sempre con le proprie idee, non posso trasportare dagli altri. Complimenti a tutte le persone che hanno organizzato questa giornata e grazie per averci dato l'opportunità di essere presenti. Cioè non pensi solo tu che la mafia si possa sconfiggere, ma lo pensano moltissime persone. La cosa che ci va più piacere è che non vengono solamente Palermitania per questa manifestazione, ma anche persone da tutta Italia. La storia è bellissima, per esempio ci sono un sacco di stand dove si possono fare cose creative. È una bella esperienza comunque, cioè io consiglio a tutti. In questo teatro, il Teatro Politeama, quindi nel centro nevralgico della città di Palermo, avverrà una sorta di talk, chiamiamolo così, dove gran parte delle realtà che vivono insieme al Ministero, alla Fondazione, ma a tante altre organizzazioni, un'attività di animazione nelle scuole, di educazione alla legalità, domani convoglieranno tutto in questo grande contenitore, in questo teatro, dove proveremo a dare voce a tutte queste singole esperienze. Io non ho paura di morire, sono siciliano io. Tu ti lamenti, di che ti lamenti? Io non ho paura di morire, sono siciliano io. Tu ti lamenti, di che ti lamenti? Io non ho paura di morire, sono siciliano io. Io non ho paura di morire, sono siciliano io.